Salve, allora con la lezione di oggi parleremo dell'aggettivo alla scoperta delle qualità perché l'aggettivo porta a dare una qualità ai nomi, adesso lo vedremo quindi da dove deriva il termine aggettivo? la parola aggettivo deriva dal latino adiectus che è un participio perfetto cioè un participio passato del verbo adicio e significa aggiunto l'aggettivo infatti è un'aggiunta al nome, si accompagna il nome di questo nome da delle informazioni in più che possono essere delle qualità, possono essere delle caratteristiche oppure una determinazione per esempio nello spazio quando dico questo libro piuttosto che quel libro per esempio do una determinazione nello spazio rispetto a chi parla oppure a chi ascolta oppure un'altra determinazione può essere il numero, due libri, tre libri e così via ma andiamo avanti quindi gli aggettivi possono avere però due tipi di funzioni una funzione è detta qualificativa, quindi avremmo l'aggettivo qualificativo quando per esempio diciamo cavallo bianco, il bianco è una qualità quindi l'aggettivo è qualificativo oppure possiamo dire quel cavallo oppure questo cavallo o qualche cavallo o due cavalli o lo stesso cavallo tutte queste informazioni che non sono delle qualità ma sono delle determinazioni ci danno appunto l'aggettivo di tipo determinativo quindi oltre a questo gli aggettivi sia che siano determinativi sia che siano qualificativi possono avere due funzioni a secondo come sono associati al nome se l'aggettivo si lega direttamente al nome senza nessun intermediario si dice che ha funzione attributiva questo bel cavallo si chiama furia in questo caso questo è un aggettivo dimostrativo quindi di tipo determinativo bel, bello, è un aggettivo qualificativo sia questo che bel sono legati direttamente a cavallo quindi hanno questa funzione di aggiunta quindi noi diciamo attributiva quando invece l'aggettivo si lega al nome attraverso un verbo i verbi sono in genere o il verbo essere o il verbo copulativo come sembrare allora abbiamo la funzione predicativa allora possiamo dire furia è bello l'aggettivo bello è legato a furia attraverso il verbo essere potremmo anche dire furia sembra bello anche sembra fa lo stesso tipo di lavoro del verbo essere cos'è quindi l'aggettivo? allora assieme al nome, ai pronomi, agli articoli, al verbo l'aggettivo lo possiamo definire una parte variabile del discorso perché varia? ma in che cosa varia? varia secondo due elementi il genere maschile e femminile e il numero singolare e plurale vediamo come questa variazione per l'aggettivo non è indipendente dal nome visto che l'aggettivo serve il nome, lo aiuta l'aggettivo deve concordare col nome a cui si riferisce questa è una legge della concordanza noi non possiamo dire un belle cavallo ma un bel cavallo quindi l'aggettivo bello deve essere concordato col nome cavallo che in questo caso è singolare ed è maschile quindi dobbiamo dire bello o belle nella forma troncata ma non possiamo dire bella o belle o belli quindi non possiamo dire per esempio questi caramella ma questa caramella quindi l'aggettivo deve concordare col nome ci sono delle regoline per la concordanza vediamo queste regole quindi la concordanza cioè la corrispondenza del genere e del numero al nome segue delle regole in base al tipo di aggettivo che andiamo ad usare vediamolo con delle tabelle ecco allora gli aggettivi in base alla desinenza maschile o femminile abbiamo aggettivi no quattro forme quindi un ragazzo bravo al maschile singolare una ragazza brava al femminile singolare ragazzi bravi al maschile plurale brave al femminile plurale quindi gli aggettivi no hanno quattro possibili combinazioni due per il maschile e due per il femminile andiamo avanti invece quando aggettivi che terminano in a al maschile singolare tipo ista, asta, cida e ita abbiamo invece solo tre forme perché la forma ista al singolare è comune al maschile e al femminile sempre abbiamo un ragazzo idealista una ragazza idealista le desinenze sono identiche perché l'aggettivo ha solo quella forma però al plurale abbiamo due forme una per il maschile e una per il femminile quindi diremo dei ragazzi idealisti delle ragazze idealiste quindi ha tre forme andiamo avanti poi abbiamo aggettivi che hanno solo due forme una per il singolare e una per il plurale quindi hanno la stessa desinenza sono quelli che al singolare maschile terminano in e per esempio felice quindi un ragazzo felice una ragazza felice dei ragazzi felici delle ragazze felici quindi una sola terminazione al singolare una sola terminazione al plurale quindi abbiamo aggettivi in o quattro desinenze aggettivi in ista per esempio tre desinenze aggettivi in e due sole desinenze andiamo avanti un altro aspetto importante per capire come funziona l'aggettivo nella nostra lingua è la posizione non ci dobbiamo dimenticare che la lingua italiana è una lingua posizionale cioè la funzione delle parole nella frase cambia a secondo il luogo dove vengono messe se io dico Marco mangia la mela è Marco che mangia la mela ma se cambia opposto la mela mangia Marco c'è questa mela assassina che si va mangiando Marco quindi spostando le parole si cambia il senso della frase stessa cosa succede con l'aggettivo vediamo come se l'aggettivo viene messo prima del nome abbiamo una grande casa quindi io sto dicendo questa casa è grande quindi l'aggettivo in questo caso ha un valore descrittivo ci dice che la casa è grande io posso dire una piccola casa stessa cosa sto dando una funzione descrittiva una mela rossa quindi in questo caso una in questo caso rossa mela cambia il senso ma andiamo avanti se io dico una casa grande come una mela rossa con l'aggettivo messo dopo significa che ci sono mele verdi mele gialle o case piccole quindi in questo caso è distintivo se io dico dammi una mela rossa vuol dire che nella cesta ce ne possono essere di altri valori voglio una casa grande vuol dire che sul mercato immobiliare ci sono anche case piccole e così via quindi l'aggettivo messo dopo ha un valore distintivo non descrittivo e questa è una sottigliezza a cui noi inavvertitamente diciamo aderiamo quando parliamo perché siamo se siamo di madrelingua italiana l'aggettivo qualificativo ora vediamo la grande famiglia degli aggettivi qualificativi per ora parliamo di questi allora come sono strutturati? gli aggettivi come i nomi possono essere primitivi o derivati sono primitivi se non derivano da altri nomi per esempio bianco, alto, basso, grande, piccolo rosso, bianco, blu sono tutti primitivi sono derivati invece se hanno o un suffisso o un prefisso o un suffisso e un prefisso e in genere si possono formare da nomi da altri aggettivi anche da verbi vi faccio l'esempio qui abbiamo per esempio il termine piacevole viene dal verbo piacere o dal nome piacere uno dei due quindi c'è il suffisso vol la residenza è piacevole se aggiungo il prefisso s faccio il contrario spiacevole i suffissi ubil significa che può solubile che si può sciogliere volubile che può cambiare idea il primo pezzo è un verbo volere in questo caso solubile viene un verbo solvere anche questo latino indegno è il contrario di degno quindi in questo caso come il termine infelice l'aggettivo è derivato dall'altra forma con l'aggiunta di un prefisso che forma diciamo col significato contrario in in questo in questo caso quindi questi sono derivati possono essere anche alterati e possono essere anche composti l'alterazione l'abbiamo nel nome abbiamo anche l'alterazione dell'aggettivo se io ho un ragazzo posso avere un ragazzino un ragazzone un ragazzaccio un ragazzetto gli alterati quindi li abbiamo anche negli aggettivi e i composti andiamo alla tabella degli alterati vediamo diversi suffissi che ci creano gli alterati negli aggettivi io ve ne ho messi alcuni come esempio ino carino abbiamo diminutivo più piccolo one accrescitivo vecchione etto piccoletto e diminuisce ma in senso vezzeggiativo uccio caruccio quindi vezzeggiativo sempre accio dispregiativo monellaccio astro grigio astro è un colore grigio bruttino quindi anche quello ha un senso dispregiativo questi sono degli esempi di suffissi per alterare gli aggettivi i composti composti è un mondo perché si formano composti in diversi modi posso prendere due aggettivi li metto insieme spesso si fa con i colori quindi ho il grigio verde plurale grigio verdi qui ho messo il trattino per fare capire come si formano in realtà la parola si scrive intera grigio verdi plurale il plurale quindi si forma volgendo al plurale solo la seconda parte per esempio un avverbio più verbo maleducato qui male educato la esce una sola nel composto il plurale diventa maleducati avverbio più aggettivo sempre verde sempre verdi aggettivo più no verde oliva in realtà verde oliva non c'è non è molto non l'ho visto non l'ho trovato i gradi quindi l'aggettivo qualificativo lo distinguiamo anche dal determinativo perché ha dei gradi se vi confondete ma io non so se questo aggettivo è qualificativo o determinativo fate la prova a mettere unissimo per esempio se io ho alto altissimo è qualificativo se io ho mio miissimo tuo tuissimo questo questissimo non esistono quindi la cosa è più semplice quindi il qualificativo ha il grado per esempio superlativo il determinativo no vediamo quali sono questi tre gradi positivo tutti gli aggettivi quando li usiamo in termini quantitativamente normali buono cattivo bello buono alto basso grande piccolo si dice grado positivo se invece stabiliamo il paragone tra due termini allora abbiamo il grado comparativo comparare significa mettere a confronto e quindi dobbiamo capire quanto di quella qualità è presente nei due termini si fa il confronto tra il primo detto primo termine di paragone e il secondo quindi comparativo di maggioranza il primo più di di minoranza il primo è meno di ugualienza è tanto quanto allora lo vediamo nel dettaglio Carla per esempio se valutiamo l'altezza in una determinata classe prendiamo Carla vogliamo capire Carla che altezza ha possiamo dire che Carla è più alta di Giulia quindi comparativo di maggioranza Carla è meno alta di Roberta Carla è tanto alta quanto Vanessa comparativo di uguaglianza quindi Carla è primo termine di paragone nei tre esempi Giulia, Roberta e Vanessa sono il secondo termine superlativo se io prendo Carla fuori da qualsiasi contesto e dico che è altissima dico che è alta e basta in senso assoluto assoluto il latino absolutus significa sciolto da ogni vincolo in questo caso non sto mettendo Carla a confronto con nessuno ma abbiamo anche superlativo relativo perché noi in italiano ci dobbiamo complicare la vita quindi relativo a un gruppo a un contesto quindi io posso dire per esempio che Carla è la più alta della classe o Carla è la più alta della scuola Carla è la più alta della sua famiglia e così via quindi io posso dire l'affermazione Carla è più alta all'interno di quale diciamo insieme è valida ecco relativo come distinguiamo il superlativo relativo dal superlativo dal comparativo di maggioranza perché guardate la gente che sembra uguale perché c'è l'articolo la io non dico Carla più alta della classe la più alta quindi assolutizzo l'espressione la più alta e la contestualizzo dentro la classe bene quindi naturalmente qui non c'è un secondo termine di paragone della classe non è il secondo termine di paragone dice all'interno di quale contesto Carla è più alta ok va bene per ora ci fermiamo qui grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti